Le notizie di Senigallia Web TV, bentornati, venerdì 8 di luglio. Mi è esploso un accendino, ma quel colpo era troppo forte, tutti in quell'ufficio hanno subito pensato ad un colpo di pistola, e in effetti era proprio quello. L'uomo, cinquantenne di origine campana, stava sbrigando alcune pratiche in un ufficio di Monteporzio, quando improvvisamente gli è caduto il borsello. L'uomo si scusa, asserendo si trattasse dell'esplosione di un accendino, saluta e si allontana frettolosamente. I carabinieri giunti sul posto scoprono l'esistenza di un foro nella parte bassa di una porta interna, rinvenendo nella stanza limitrofa un ogiva di un proiettile esploso. Il cinquantenne, di origine campana e residente da anni a Marotta, è stato rintracciato e arrestato in flagranza di reato per porto e detenzione di arma clandestina, ricettazione e accensioni pericolose e condotto in carcere. L'ala, associazione lotta all'amianto, segnala l'ennesimo rischio da amianto nel centro di Senigallia, due passi dalla nuova piazza Garibaldi. In vie delle caserme è presente una parte di tettoia in cemento amianto da incapsulare in quanto vetusto. La struttura è inoltre spolvera amianto ed è affiancata da una lastra in plastica che copre un bagno esterno della stessa abitazione. Dopo i tragici fatti di Daccai, il sindaco Maurizio Mangialardi ha incontrato la comunità bengalesi accompagnata dal consigliere straniero aggiunto, Alam Mohamed Shaufial. Come consigliere aggiunto e come musulmano esprimo il mio dolore e il mio cordoglio per tutte le vittime di quest'ennesimo atto terroristico. Purtroppo questi vili assassini continuano a seminare morte in giro per il mondo a nome dell'Islam. Ma l'Islam è una religione di pace che nulla ha a che fare con questi venditori di morte. Il nostro compito ora è non fare il loro gioco. Quello che vogliono è dividerci. L'amministrazione comunale di Castellione di Suasa, grazie alla disponibilità della soprintendenza per i beni archeologici delle Marche di Ancona, organizza per domenica 31 di luglio 21.30 una serata dedicata al Teatro Antico, nello scenario dell'Anfiteatro Romano del Parco archeologico della città di Suasa, con la collaborazione della compagnia Le Rune Teatro che metterà in scena la celebre commedia di Plauto Casina, adattata dal giovane regista Filippo Mantoni. Si terrà sabato 9 alle 17 presso i locali della Scuola Pascoli di Senigallia, il momento conclusivo dell'iniziativa Quando la banda passò, laboratorio creativo per bambini della durata di una settimana organizzato dal Centro Teatrale Senigalliese e ideato da Agnese Barucca e Jacopo Curzi. I primi giorni di luglio nelle Marche sono stati davvero roventi, tanto caldo ma soprattutto tantissimi eventi. Arancia Live in particolare ha seguito le due serate di Senigallia dell'1 e 2 luglio, la Notte Rosa e il compleanno della Rotonda. Venerdì è stato un fiume di gente a riversarsi sul lungomare di Senigallia per celebrare la Notte Rosa. In piazzale della Libertà, dopo l'Arancia Live Contest, si è esibito l'attore e cantautore Andrea Rivera, con il quale abbiamo scambiato qualche battuta durante le prove. Il teatro canzone che porto, le pillole che la gente conosce, i video, ormai i ragazzi di 15-16 anni mi conoscono per i miei giochi di parole. Quello delle medicine, televisione, la vedi tu? Io no. Ne ho fatto tanta, 12-13 anni, non mi ricordo più. È giunto il momento forse di dedicarsi più al teatro e ai concerti. Questa è un'occasione per far vedere Andrea Rivera in concerto. Il cantautore, io ho scritto più di 80 canzoni, ho collaborato con Baccini ultimamente, mi piace scrivere per gli altri, con Mannarino, con Alessandro Mannarino. Lo spettacolo che ha portato a Senigallia si chiama Andrea Rivera in pillole. Stasera ho tutta la band e sono contento che il comune di Senigallia, tramite Lara Massi, che si è prodigata per questa cosa, per questo concerto. Il mio spettacolo parla di noi, di tutti, con i problemi quotidiani, con le denunce sociali che ho fatto sempre da 15 anni, da 20 anni, da quando suonavo per strada. Quindi il mio spettacolo cambia nei contenuti, ma poi alla fine i contenuti sono sempre gli stessi, le metafore sono sempre quelle. La gente che non ha una lira per campare anche perché c'è l'euro e quindi bisogna andare avanti e non perdere mai la speranza. Quello che dico ai ragazzi è di fumare, bere di meno e pensare di più. Sabato sera più tradizionale con un'altra edizione di Arancio Live Contest e questa volta, insieme alla musica, a fare da cornice all'evento sono stati i magnifici fuochi d'artificio. Le condizioni del tempo di sabato 9 luglio sulle Marche, cielo generalmente sereno, assenti le precipitazioni, i venti ancora deboli da est-nord-est con rinforzi pomeridiani di Brizza lungo le coste, le temperature in ascesa, previsioni elaborate da Assam. Grazie per averci seguito, buon fine settimana, prossima edizione lunedì, vi aspetto.